E ora le domeniche al museo, anche le Marche aderiscono alla prima giornata nazionale delle famiglie al museo, tante le iniziative per poter godere dell'arte in modo inusuale. Vediamo il servizio di Simona Carbonari. L'obiettivo dell'iniziativa è far incontrare i genitori con i loro bambini in un luogo inusuale, che può essere magico, sorprendente, entusiasmante, divertente. Tanti musei, le fondazioni, le esposizioni che restano oggi aperte per la giornata nazionale delle famiglie al museo. Si va alla scoperta della moda, dei costumi e della bellezza dell'antichità al Museo Arkeologico delle Marche, una mostra che conquista le famiglie con i piccoli segreti della moda picena. Questa è una riproduzione di una dama picena di alto rango. Diciamo che dallo scavo di compra marittima ci sono state delle ipotesi e delle ricostruzioni su come potevano essere gli abiti in epoca picena. È la prima volta al museo insieme tutta la famiglia? Siamo già venuti un altro paio di volte, però ogni volta è sempre un piacere tornare perché si impara sempre qualcosa di più. Per me è scoprire sempre cose nuove, soprattutto per le bambine che sono molto affascinate su questo. Tante le iniziative, anche nel pomeriggio al Museo Diocesano, i ragazzi si trasformeranno in esploratori per visitare il museo alla ricerca degli animali nascosti nelle opere. Anche Pesaro propone ai musei civici un percorso gratuito, tutto dedicato ai più piccoli, ma ogni museo marchigiano ha organizzato laboratori, giochi a tema, offerte speciali per l'occasione.